Un successo, un successo di tanti comuni, qua siamo a Savona, complimenti quindi all'amministrazione comunale di Savona che il suo lavoro ha portato anche questo riconoscimento nazionale sulla qualità e quindi è importante che la Liguria, che vuole essere una terra di turismo e tutte le iniziative regionali, anche la pianificazione urbanistica va proprio nell'ottica di riqualificare il nostro territorio per darle un grande rilancio turistico debba passare anche attraverso queste certificazioni. Ogni anno sono sempre di più i comuni che hanno questo riconoscimento credo che le politiche regionali nell'ottica della tutela del nostro territorio stiano funzionando e tanti comuni come Savona e tanti altri della Liguria stanno seguendo quelle che sono le nostre impostazioni e i risultati si vedono. Sono quindi soddisfazioni importanti, il lavoro è ancora tanto da fare perché i problemi sono ancora molti e non bisogna sicuramente fermarsi qua ma credo che la Liguria finalmente dal 2015 ad oggi abbia cambiato marcia, abbia preso un'altra spinta verso una qualità ambientale sicurezza del territorio, riqualificazione del paesaggio e quindi tutto questo porta a un rilancio turistico e quindi a più economia per il nostro territorio.